Speriamo sto robbo, va? Se no che non ci scambano l'animazione Qua sono la scotta va goduto Grazie, stai Troppo gentile Ah, eccolo qua, va? Sto coso Sto pelatone Andaglio un po' Buonasera Popolo di Youtube Niente, su Richard Jefferson Mi costringe a fare un video back to back Dopo quello delle review Richard Jefferson, regà È una carta stra stra valida Completa un set di ricordo Molto molto interessante Ossia Zero Gravity Ora vi farò vedere dove l'ho preso Promettevano bene perché erano tante 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 carte Buggate e alla fine hanno concluso Con il bug definitivo Segnale anche un ottimo Randall È un discreto Francis E soprattutto le carte oro Che sono le migliori Se dovete fare la buggata Portatele perché sono veramente Molto molto buone Questo RJ clamoroso Gli ho messo la scarpetta Ma apparese a me tutti i 90 almeno 97 di draw fallo Cioè non sapevo che metterli Lo vedete C'ho tutti i 95 98 di entrata 94 con il mio coach Fa comunque 99 91 di stoppata Quella è l'unica cosa che consiglio Anche il rimbalzo di alzato 97 di repese sul perimetro 94 di interna 98 di velocità 98 di vecea con palla Con la scarpa 97 della terra quickness 94 di forza Cioè c'ha tutto Anche la forza C'ha anche le tendenze Immagino in difesa C'è una cosa devastante A livello di stats Speriamo che in game si comporti uguale Vedi 95-55 C'ha una cosa 31 all of fame Livelli scorro Timer Pickpocket Pickdodger Clems Intercettore Intimidatore Posterizzatore Ribbon Chaser In una guardia Il poco Il post-move lock C'è un lock clamoroso Limitless End of 4 days Che buono Primo passo Chiaramente The die Sniper Stop and pop Non rubabile Limitless Stakeoff Regà C'ho badge importante Anche minaccia E poi 48 Oro Regà Sono un botto Ce l'ha tutti Gluencer In protection Se si dà Un box Catena rapida Off ball pest Mismatch expert Rise up Lucky 7 Blinders Regà Ce l'ha tutti Ce l'ha tutti 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 Gli manca Vediamo un po' Che gli manca Regà Niente Ce l'ha tutti Regà C'è tutti i badge Del gioco È un fake Invincible Con gli ore Invece che con gli off E fidatevi Che un sacco di badge Bastano anche ore Non serve Avegli all'offame Regà È un god Cambio di mano È molto rapido Infatti lo sell Un botto Pannaggia la puttana Con questo Cambio di mano Di Francis Eccolo qua Molto molto rapido Infatti Molto spesso Non lo prendo Per quanto è rapido Molto molto rapido Regà Il rilascio Sul next È veramente clamoroso Vabbè Le schiacciate Lo sappiamo Era un attimo Era uno strepitoso Schiacciatore Nei tempi di Vince Carter Jason Kidd Rilascio regà Very quick Regà Non so Regà È molto molto buono Cioè Molto molto buono Ci do un attimo Prendere la mano Perché è molto rapido Mi ricordo Mi sembra quello di Tatum Non lo so Mi dà delle sensazioni Di stile Tatum Quando tira Cioè C'è uno L'esiti di Francis Strega è top Cioè Molto molto buono Anche per grabbare La difenza di quella di Gobby Non va in avanti Cioè È devastante Sto RJ Barrett Se è ancora Sto RJ Barrett Richard Jeffers Entriamo da qua Dovrebbe segnare Da lì Ok Dovrebbe segnare Da qui Madonna Questo va Questo va Questo va Guardia Vi lo consiglio Guardia Perché è molto rapido Regà Segnate qua Non vi porto Diretto in al limite Perché non ha senso Secondo me Regà È troppo forte Cioè Non lo vado a vedere In In TTO Non serve a niente Andiamo a cercare Qua in al limite Che non ci gioco Da un po' Don Cic Simmons Ecco Quello che volevo Oh no Bob Stai in piena Showdown E rovineremo La vita Oh no Black Mamba Io l'ho piena Showdown Mi frega un cazzo Sta proprio Col pisello In mano Porta pallaco Bene Ma è matto Lì Subito Due punti ambigui Lì Bravo Bella defense Dov'è 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 Arjay Qua va Bella 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 il ok bravo bravo da rj ma sta giocando solo bill che cazzo fa questo ma spamma a caso bravo bill 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 no la lag mazzami difendi male zio non lo fanno tirare solo assist esce uscite scelte dopo bassi esce bridge dai zio bravo bob bravo bill bravo dai 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 che lo recuperiamo io maiale cristo che ho portato bridge che ciao wallace un coglione sono piccolo ma davis la devi fa tutta mart ciao chi di link a che leonard e che cazzo e se sta scoppiando 61 per cento si rompe godo bravo vi compro andate in giro con jabbar vai vai nooo capito savage questo è il sito del locker coi locker code ma quanto spamma questo ma vai fuori posizione zio mamma mia arjai bravo che giocatore o no godo quanto spam mi allevate ora che spamma clamoroso o basta spammare bellissimo bellissimo 15 per arj basta spammare ora mamma mia arjai che partita bella partita cazzo il porzo ahahah che giocatore partita clamorosa 18 3 11 raga carta molto molto interessante raga vi consiglio di farla bella bella carta assolutamente questa è la sua partita gli regaliamo la win a ragazzo che se l'è meritato bravo bravo spamma un altro po' vabbè ragazzi non c'è non penso che serva altro da vedere una carta che difende che tira da tre che palleggia e c'è un bel rilascio non vedo pecche proprio cioè sembra un mini invincible cioè è palesemente un invincible non so che la base che c'ha ma ci faccia sempre verde molto greenabile su current l'ho visto un po' più bloccato a rilascio ma comunque buono perché la current un po' così non è fluida come la next per il resto e carta sicuramente da sbloccare per me è strastra promosso vi faccio vedere dove l'ho sbloccato questa qua tutte queste giocatori che vi danno fateli tutti sono sfide abbastanza semplici e vi danno anche il badge all of fame fatelo assolutamente e vi daranno il buon jefferson quindi raga la review finisce qui arrivederci alla prossima ciao ciao